numero 20 con la maglia nera diego cosner a destra ala destra attenzione questo per lui è un cambio qualsiasi ingaggio disco un po pasticciato porta avanti non ha spazio si mette il disco lungo l'angolo segue combatte non permette agli avversari di giocare rapidamente si atterra glielo pasticcia glielo complica continua a giocare lo tocca lo perde se lo trova fortunatamente alle spalle insegue il suo uomo lo va a chiudere attenzione è già disponibile dall'altra parte per mettere il passaggio giusto in questo caso per mettere di andare al cambio dall'altra parte lato opposto disco dentro non glielo lasciamo giocare facciamoli ancora partire da lontano guardiamo sono passati 40 secondi quindi tanti per un cambio normale nell'occhio e ghiaccio e adesso meritatamente è andato il cambio